Buongiorno, oggi vediamo un po' le prove che sono alla base della selezione naturale Le prove sono di tre tipi, genetiche, biogeografiche e embriologiche Mano a mano ragioniamo sugnuna di loro Allora, partiamo dalle genetiche che, come ci suggerisce il nome, hanno a che fare con il codice genetico Che cos'è il codice genetico? E' l'insieme di informazioni che dicono di un essere vivente come questo essere vivente è fatto Praticamente sono gli insieme di informazioni che vanno a decidere le caratteristiche dell'essere vivente O almeno buona parte Come abbiamo già detto nelle lezioni precedenti, quando gli esseri viventi si riproducono Queste informazioni non vengono copiate in modo perfetto Questi errori nella copiatura di queste informazioni fa sì che, mano a mano, gli esseri viventi cambino Se ogni volta la copiatura fosse perfetta, gli esseri viventi non potrebbero mutare Ok? Quindi non ci potrebbero, non potremmo vedere caratteristiche vantaggiose per l'ambiente o svantaggiose per l'ambiente Perché le caratteristiche sarebbero sempre le stesse Allora, facciamo un paragone con il telefono senza fili Ok? Perché? Perché il codice genetico di fatto è scritto in una serie di quattro lettere Che si ripetono Sono... i codici genetici sono molto 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 lunghi Ma per fare le cose semplici li rappresentiamo con una frase abbastanza breve Come il gatto è salito sul tavolo Immaginiamo che questa sia la frase detta da un giocatore del telefono senza fili No? Il telefono senza fili come sapete Una persona ha una frase da dire, la dice un'altra persona Questa persona magari sentirà la frase in modo un po' diverso E quindi dicendolo ad altre persone la dirà un po' modificata rispetto a quella di partenza Immaginiamo che una persona, la chiamiamo la persona 0 Dica a due persone diverse la frase il gatto è salito sul tavolo Questa Allora immaginiamo che la persona 1 senta il gatto è salito sub tavolo Quindi che invece che sul senta sub La persona 2 invece sentirà magari il gatto è salito sul cavolo Cioè sul lo sente bene ma il sbaglia a sentire l'ultima parola Poi stessa cosa succederà nei passaggi successivi Quindi la persona 1 sicura di aver sentito il gatto è salito sub tavolo La dirà le altre due persone Una magari sentirà il ratto è salito sub tavolo Quindi sentirà male questa parola qua E magari l'altra sentirà male sempre la stessa parola Ma invece che sentire gatto o ratto sentirà matto Dall'altra parte Le persone 5 e 6 partiranno non dal gatto è salito sub tavolo Ma da quello che gli ha detto la persona 2 Quindi il gatto è salito sul cavolo La persona 5 magari potrebbe sentire male E capire il gallo è salito sul cavolo La persona 6 potrebbe sentire il gatto è salito sul cavolo Ok Come possiamo vedere Questa Queste persone qua che hanno partecipato al gioco Hanno accumulato delle modifiche rispetto a quello che c'era prima Però la persona 3 e la persona 4 hanno modificato la frase di partenza data dalla persona 1 Mentre la persona 5 e la persona 6 hanno modificato la frase di partenza data dalla persona 2 Quindi in un certo senso possiamo andare a capire quante due Quanto sono lontane o vicine delle specie animali a seconda di quanto sono ampie le modifiche fra loro E anche fra qual è la parte comune da cui probabilmente sono partite Per iniziare a differenziarsi Questa cosa qua è anche stata vista per quanto riguarda gli studi sul virus che causa il covid 2019 Per andare a capire se il virus arrivato in Italia aveva qualcosa in comune col virus arrivato in Germania Sono andati a vedere Proprio quanto erano grandi le differenze fra loro E questo potrebbe anche essere utile per vedere che, che ne so, se è un virus arrivato in Olanda E' partito dal virus tedesco o quello italiano Bastano da vedere se è partito da una modifica che era arrivata da quello italiano o magari da quello tedesco Ok? Altre prove L'altra prove sono quelle biogeografiche Che già aveva iniziato a vedere Darwin Cioè E' andata proprio a capire Che Ehm A vedere che Specie di magari Di una specie Ehm Scusate Ehm Popolazioni di una specie Magari quella di qualche fringuello Che abitavano ambienti diversi Quindi che ne so Foresta O O zona di montagna, no? Ehm Abbastanza vicine geograficamente Avevano caratteristiche Comunque più in comune Che magari specie Che tutte e due Abitavano in un deserto Però In posti molto lontani Perché? Perché è vero che avevano dovuto adattarsi Più o meno Allo stesso ambiente Quelle che abitavano In questo deserto In questo deserto Però Ehm Erano partite da Ehm Antenati Molto Completamente diversi E quindi Ehm Si vedeva questa Differente Differente punto di partenza Che andava Comunque a decidere La maggior parte Delle loro caratteristiche Ok? Altro tipo di Prova E' quella Embriologica Cioè Si è visto Che Più due specie Sono Imparentate Più I loro embrioni Sono simili Sono simili Gli embrioni Come sapete Sono Il primo Stadio di un essere vivente Subito dopo il concepimento Ok? Ad esempio Possiamo vedere Che Gli embrioni Di un gatto E un cane Sono comunque Più simili Fra Hanno Hanno comunque Più Similitudini Rispetto a quelli Delle embrione Di un gatto E l'embrione Di un serpente O Ehm Ancora di più Fra quelle Tra l'embrione Di un gatto E l'embrione Di un Ehm Di un pesce Ok? Tuttavia Ehm Possiamo Per ricollegarci a quello che abbiamo detto prima Selle prove biografiche Possiamo comunque Aspettarci che a lungo andare Due specie Anche magari poco Imparentate Che però Vivono Per tantissimo Ehm Moltissimo tempo In Posti magari Molto distanti Geograficamente Ma che hanno Più o meno le stesse Richieste ambientali Diventino Con il tempo Simili Un esempio E' questo qua Ehm Il tilacino E' il lupo Vedete che Sono relativamente simili Anche se sono Molto molto poco Imparentati Perché uno Abita da noi E l'altro Abita in Australia Ok? Questo tipo di fenomeno Si chiama convergenza Convergenza evolutiva Perché appunto Ambienti simili Fanno convergere Le caratteristiche Delle specie Che gli abitino Che gli abitano La stessa cosa Si vede ad esempio Tra Insetti E uccelli Insetti E uccelli Sono completamente Separati Dal punto di vista Evolutivo Però Vediamo Le ali In tutti I due gruppi Chiaramente Gli insetti Non tutti Hanno le ali Comunque Perché? Perché L'adattarsi al volo È qualcosa di utile In entrambi i gruppi Ok? Grazie.